250 lavoratori della Teramo Ambiente temono di tornare presto a casa se non arriverà un nuovo socio privato a sostenere i conti salatissimi della partecipata del Comune che si occupa di rifiuti e di cimiteri. Alla gara da 100 milioni di euro in 10 anni indetta per individuare un socio privato, l'unica azienda ammessa per i giusti requisiti era stata la Ciclat di Ravenna. Dopo l'ennesimo rinvio concesso dagli uffici dell'ente per la formulazione della proposta gestionale, dal gruppo emiliano non è arrivato nulla ed è dunque lecito dire che la gara è andata deserta. La situazione sembra adesso davvero grave visto che da sola la TEAM, quindi il Comune di Teramo, non riuscirebbe a sostenere tutti i costi dei servizi. A questo punto entra in campo il commissario prefettizio Luigi Pizzi che sta rielaborando i criteri di gara per rendere più appetibile la partecipazione degli investitori privati. Ma vediamo nel dettaglio quanto dovrebbe investire un socio che decide di entrare nella TEAM. Intanto dovrebbe acquistare il 49% del pacchetto azionario della Teramo Ambiente per un valore di 1.800.000 euro. Dovrebbe sborsare 400.000 euro l'anno per il restauro e la gestione del cimitero Cartecchio. 9 milioni di euro l'anno per la raccolta dei rifiuti porta a porta, circa 3 milioni per la realizzazione dell'impianto di cremazione a Cartecchio, 12 milioni per l'ampliamento dei cimiteri ed altri milioni per il verde. In questi costi non sono conteggiati quelli del personale che sono una parte rilevante. Il commissario Pizzi cercherà ora di abbassare un po' le cifre per evitare che la gara vada nuovamente deserta. Il timore è quello del fallimento della partecipata TEAM e il licenziamento dei 250 dipendenti.